Mi manchi tantissimo. Mi manchi anche tu, mamma. Starai attenta quando uscirai. Come sempre. Mamma! Sono molto felice di essere a casa. Ma è tutto diverso ora. A casa abbiamo un pianoforte. Ma io non so suonarlo. Hai mai allucinazioni? Mamma? Sì. Astronauti affrontano fenomeni che non capiscono. È così che molti si smarriscono. Quando ero lassù, l'unica cosa a cui pensavo era tornare da mia figlia. Mi manchi, mamma. Starai attenta quando uscirai. Mamma, chi era? Eravamo io e te, poco prima dell'incidente. Quella non ero io. Mamma? Lei dov'è andata? Lei chi? Tu! Ho inventato una macchina che abbiamo portato nello spazio. Credo di aver visto qualcosa, ma a quanto pare non ha voglia di farsi vedere. Le persone vedono delle cose lassù. E quando ritornano molti sembrano impazziti. io non sono matta. Tu devi aiutarmi. Io devo tornare da lei. a te sembrano sempre la stessa. È che tu non sembri essere la mia mamma. mi non sembri essere la mia mamma. Ah ah ah. untungi nostri il mirante. Mi Div encontra una macchina. È che tu non sembriau, ma. È murcia bella. Grazie a tutti